dal prog, esiste un personaggione del prog a cui io ho dedicato un brano e cantiamo un suo brano per onorarlo ma lo facciamo ormai è entrato nel nostro repertorio, quindi è un omaggio all'icona del prog italiano, mondiale, internazionale e Francesco Di Giacomo del Banco di Motosoccorso, Francesco ci rappresenta tutti, se c'è un'icona è lui, a livello internazionale, non solo italiano, mi dispiace gli Evoca sono amanti delle orme e noi invece amiamo più il banco, ma è il gruppo che sta qui, che sono dei fan delle orme, infatti tra poco è sul loro CD che è un'elaborazione live di Verona e Sorona, non di Pavevoli, di Verona e Sorona, quindi dei traditori. Grandi e le orme, sono grandi amico di Aldo Tatiapietra come loro, per cui lo stimiamo moltissimo, però intanto non mi rompete, ti prego, non mi rompete, un'altra storia.